musica 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 ehi sabato sui primi disoneste e disoneste io sono disonbrockis bentornati sul mio canale oggi siamo su insurgency e siamo su una partita un po' particolare ovvero sono uno contro uno contro il mio caro eh che pare sei già connesso qualcuno eh ma non è possibile eh ma che cazzo è lo voglio neanche 5 minuti non è più una partita con uno contro eh ma è una partita guarda che lei che sia con me guarda eh guarda speriamo che non mi sia sui coglioni quindi sarebbe una partita contro uno contro uno su attacca e conquista difendi e difendi e le de 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 ed è notturna quindi non si vede già non si vede una beata minchia no con il visore notturno non si vede una beata minchia in più se lo spengo io non l'ho messo ma io sto registrando già non si vede una beata minchia non mi interessa vabbè allora lo spento però non si vede una beata minchia lo stesso ok sarà una partita è difficile basta secondo me hai mai già visto perchè hai smesso di fare non è vero vi sto solo distrazione no no come un tartufo bianco ho coltivuto forse ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ma tu c'hai il visor a ti nooo ce l'ho spento giure che ce l'ho spento lo vedrai tra registrazione e mi do come ti ho inciutato eh io sono un po' non so ho visto un tipo un frame di muoversi ho sparato tipo proprio tipo tan 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 perchè mi si bugga? che è che è successo? tu sei un buggato e A è stato conquistato come? ma troppo veloce cos'è sto? eh non è stato troppo veloce è una conquista normale che abbi dimenti di età degli minorenni ok? tu sei un minorenne non puoi guardare questo video ma è troppo OP per te eh tu non sei un minorenne scusami nooo nooo ho solo 20 giorni da minorenne ok? ok? questo non vuol dire che sono minorenne sono un prematuro quasi maturo possiamo dire facciamo che non sei maturo per niente beh parliamo del tipo che capisce ecco se ti dicessi che mi cagadosso e fatto che c'è tutto buio basta porca puttana mi hai fatto cagare sotto nooo good to know shish shish over bro shish una si caga talmente posso che non so neanche dove andare a guardare ok io ho sentito muoversi qualcuno dentro il cespudi cazzo sei ho sentito qualcuno che si muove su cespudi vaffanculo sei te cazzo sei nooo prego non ammazzarmi ora che sto aumentando il volume ti prego non ammazzarmi ora mi sono spondato le orecchie mi sono partite le orecchie perchè ho appena messo il volume alto madonna ti ho fottuuto ti ho fottuuto e adesso conquisto e che è ahahahahah beh che palla già perso B prima te sei tu in due romana ma vabbè non so neanche giocando ma non ci credo e non so in una volta come un pirla perchè si chiama Endless Thor che vuol dire E comunque sai c'è un altro insieme a te, quindi sta buono E' arrivato ora, non ho ancora fatto niente Allora, la partita che deve essere 1 contro 1 è arrivata a 2 contro 2, senza voler Quindi, not bad Comunque non è questo il serve Non ho notato se compare un altro adesso a chi mi ammazza, sai? Ah, ora siamo due per una puttana Ma dove? Ma dove? Che chi? No, dove eri? Ma sotto Nella penombra ho visto la tua ombra sull'ombra Penso che non sciate a vederlo, che dovrò aumentare la tonuncia da tipo 3.000 Sì, ma c'hai... Tu c'hai le ombre? No, non vale Ahahahah Non è sbagliato E sto a dire barare, ecco Tu vai E giocare Ahahah Mell'ave Scusate ragazzi se ho una giocata molto lenta Ma è questo che fa vincere su questo gioco La pazienza è andare piano piano no! Cazzo! che cazzo eri? brutto figlio di fuffare tu non credo ci ci crederai ma tutto il tuo peccato attraverso la porta dove eri tu senti, in una piccola fessura tra un angolo dalla porta l'ho sparato e ti sei passato in quel momento ma dai stai scherzando no, per niente ma io ti ammazzo, in qualche modo ma ti ammazzo cioè come cazzo è possibile sta merda non vale, non vale e giocare sulle ali eh che vuol dire? tu sei un sleare sei un sleare io uso la grafica al massimo non vuol dire che sia parato eh, indovina perchè io non posso eh, solo perchè hai 15 fps non è la buona scuola ne faccio 40 però vabbè vabbè era devi che faceva ma hai fatto cagare il pezzo di bastardo io? che cazzo fa? no, non tu, mio amico no dai, io sono una cazzo eh, mi abbia passato accanto a correndo si no, se ne è già andato no lo stealth ti fa un impegnativo non come su Far Cry beh, lasciamo stare e lo rifarò cazzo vaffanculo t'ho visto l'ombra non ci ha sparato ma io non ci ha sparato vaffanculo perchè non ci ha sparato? e tu avevi dietro un auto illuminato t'ho visto l'ombra grazie a quell'auto t'ho visto la sagoma comunque non ci ha sparato quindi sta morto no, si è scarsa ecco direi e contando i risultati che sto prendendo che non prendevo da un bel po' di tempo direi che sto giocando anche bene più o meno più o meno più o meno giocare bene più o meno giocare bene basta, clarate e falle eh, vabbè non capisco com'è possibile non capisco com'è possibile ma che cazzo prima hai detto lo stanzo e voce dopo si è guarda che cazzo è sta roba temi dei coglioni eh delicato sonora sonora ricattura 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 non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non,non attono,non,non,non,non,non,non, intimidino addio FUGA ma COSA Ma che? Ma com'è possibile? Ma anche se Gengis Khan suonava il carrion, vincevi sta roba. Cazzo, sbagliato. No. 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 Sì, sì. Porca troia, porca troia. No. Porca puttana troia, vacca lascia. No. 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 Connected. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale. Noi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. No. 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 Li. Vi. Ah. aları.